Ballando con le stelle 2018 Ballando con le stelle 2018, ecco chi sono gli eliminati della quarta puntata Ballando con le stelle, gli eliminati della quarta puntata di sabato 31 marzo 2018 sono… Gli eliminati della quarta puntata di Ballando con le stelle 2018 sono Eleonora Giorgi e il ballerino Samuel Peron. A deciderlo è stato il 40 del pubblico da casa tramite il televoto. La coppia di concorrenti è stata eliminata nello spareggio finale contro Cristina Isce e Luca Favilla che è andato in onda su Rai 1 sabato 31 marzo. . Dopo leliminazione, la Carlucci ha annunciato che presto ci sarà una puntata di Ballando dedicata al ripescaggio. . Quindi oltre alla stessa Giorgi potrebbero rientrare in gara anche alcuni dei partecipanti già eliminati in precedenza. . Stefania Rocca e Marcello Nuzio, usciti nel terzo appuntamento, e Don Diamonde ed Anna Cartunnan, nel secondo. . Ballando con le stelle 2018, la classifica tecnica della quarta puntata. . Questa la classifica tecnica della quarta puntata di Ballando con le stelle 2018, comprende soltanto il voto della giuria, si intendono quindi esclusi i risultati del televoto e le assegnazioni dei vari tesoretti. . . 1, Francisco Porcella e Anastacia Cuzzina, 39 punti, Natalia Guetta e Simone Di Pasquale, pari merito, Giaro Giarratano e Lucrezia Lando, pari merito. . 4, Cristina Isce e Luca Favilla, 35 punti. 5, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, 33 punti. 6, Amedeo Minghi e Samantha Togni, 29 punti, Jessica Notaro e Stefano Radei, pari merito, Akash Kumarewe e Rakin Nunan, pari merito. 9, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, 27 punti. 10, Eleonora Giorgi e Samuel Peron, 25 punti. 11, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, 18 punti. . Sul fronte tesoretti, in puntata Mai era assegnato i 48 punti, raccolti da Raul Bova e Rocio Munoz Morales ballerini per una notte, a Jessica Notaro, mentre il nuovo tesoretto social di 5 punti è andato a Francisco Porcella. . . Raimondo Todaro. . . . . . . . .